bravo gv oh ioghetto bagnetto che carino come sei carino ioghetto dove sono anche i good cioè prendere lui è buono è indubbio e si può frizzare qui e giocare senza livellare ci vediamo che ande oggi bene vero madonna oggi pulizia di casa con burris sottofondo mi sembra giusto un x buone pulizie lui non livella secondo me mi gioco cioè nel senso è forte questa cosa anche se l'ha livellato lui per la madre del cielo lo gioco tanto o l'adesso mai più però se non lo gioco adesso non do info al mio hop al mio hop successivo no invece gli vedo lo stesso perché tanto lo vedo bellina una calamita di Giulia allora iscriviti al canale ho visto nulla ma ti crediamo guardate la faccio vedere come faizzo anche omunculo cioè devo faizzo omunculo no dai non scherziamo abbiamo fatto fare delle calamite con Giulia piccolà piccolà me la metto ah ma io ho fatto il vaccino sei eccezionale ah via potrei fare il livello ma non mi fa buoni questo cazzo faccio maledizione perché ho giocato mozzo sono un deficiente dovevo giocare lui perché adesso ho la taveanna 2 e io la volevo la venti venne uno sono distratto con giulia giulia è diventata al volto delle case farmaceutici che non ce lo dicono se vendere lui o lui sicuramente faccio a capire credo di vendere il muro eccoci a zampino che si fa il il gol velenoso c'è che si può fare sta per cominciare la battaglia aveva trovato tipo reattori d'anime dalla tripla e c'era giuggler già in campo però che cazzo lo dì peccato no guarda questo cioè nel senso vedete che ho l'85% di vince conte ho un avevo conto è uno che ha 34 HP questo è idratato e otterrai la vittoria le cose dorate sono le migliori si toglie lui no saranno piccoli ma di sicuro sono adorabili torna dagli altri se il futuro è impapido che la corruzione si diffonda lo scuola avance voi sarete bravi posso prendere lui posso prendere lui dovrebbe andare bene no? ho otterrato molto bene qui qua ho otterrato molto bene ora dobbiamo cercare di dare taunta dei pezzi decenti HP 2 buoni su 5 lui da più 4 più 4 da più Sì. papà da papà papà da bambino dignitoso è la che potente in questi giorni giorni di nei giorni di l'estate l'occasione sono state due però selfless ci stava eh se parlavi della selfless ci stava ho pensato però secondo me è più importante su questi due ecco è tipo qui si potrebbe anche dare ma basta non mi prendi questo questo va preso questo va preso si può giocare un mollo con veleno se la faccio a comprare tutto e livellare 4 5 6 7 8 devo vendere anche lui scusami 4 8 9 no ce l'ho per forza io preciso ho sbagliato non mi avevi dimenticato che lui ha il buff è uno di vita uno di vita cazzaiola come è di questa poeta che non scala ma mi dispiace quello che sto vedendo questo è un poeta questo è un poeta mi dispiace un poeta top 5 più il morto quanto gusto lui che ha spaccato le chiappe a tutti mi piaceva me giocare oggi lui la 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 E fa la nata di Flavudi Una l'ho fatta Una l'ho fatta Ma lui c'aveva il cicciazampino L'aveva muozzondato Cazzo mi aveva andato buendo fichissimo Era buettissimo Non ne metto nessuno E anch'io posso muozzondare il cicciazampino Fermi La tripla Johnny Scegli un servitore che ti porti alla vittoria E con questo sono tre Yuhuu E' da piangere Grandi servitore portano grandi vittorie Ho ragione Ho ragione Ho ragione E' da più A' qui E' da più E' da più E' stato bellissimo E' stato bellissimo No ma lui com'è che è diventato Com'è che sono diventati così grossi i miei pezzi Che è successo? Non me ne sono neanche accorto Ho giocato la 2T che va a fight out e una tazza Sicuramente Peccato per la magadona che non ha preso veleno E' imbe E' imbe Che vittoria impressionante Il problema è che non so più chi toglie Questa è bella stessa No ma questo costa 0 Devo farlo prima mi sa Se tolgo beando devo mettere lui no? Però se c'è un altro magadona non tolgo beando O 7i plan anche Mi sento Mi sento Fravilla Travolgeteli e fateli a pezzi Chi si vende? Niente ti può fermare Volpa eh Fazzesco Verà che sta vettita è... È Fazzesco E' la sfida Degli Shad Lo tolgo lui 51-43 Lo tolgo a malgatone stessa No tolgo polpa e dai Sembra l'unica No malgatone prende veleno ragazzi dai Ciao ciao servitore Mi mancherai Mi mancherai Mi mancherai Mi mancherai Mi mancherai Mi cuida Il modo mi mancherai Mi mancherai У che c'è Buon Che Dolott Di 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 Mil tanda nana tanta nana 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 vedete shadow walk non è forte perché c'è il rischio che uno a cazzo diventi anche lui stesso shadow walk bello bellissima ma tutto grazie alla skin joggetto bagnetto a